Collezione privata di Acqua di Parma. Sì, perché Acqua di Parma ha una collezione privata che è un po' più cara rispetto alle classiche della linea blu mediterraneo, alle classicissime colonie. Ma Parma merita rispetto, soprattutto all'estero, in paesi come questo, la Germania dove vivo in questo momento, perché tutte le volte che nei discorsi dico la parola Parma per qualsiasi motivo, mi viene sempre risposto con un risolino del cazzo, che fa pressa poco così. Parma schinken, Parma, prosciutto di Parma. Sì, perché per loro Parma vuol dire prosciutto crudo. E adesso basta, mi sono rotto le palle, è giusto di dare merito a una città che ha dato tanto a livello sia operistico, ma anche della profumeria del nostro paese. Vai! Ciao ragazzi e bentornati su Odoriamola con Mirko. Questo è l'unico canale in Italia che parla di fragranze maschili dal punto di vista dell'opinione femminile, un canale che fa, diciamo, della gnagnabilità, del concetto di gnagnabilità, del neologismo gnagnabilità, il suo pilastro portante. Cosa vuol dire questo? Che io guardo cosa piace alle donne sugli uomini e ve lo vengo a dire. Pensate che servizio pubblico gratuito, ancora per poco, perché mi hanno detto che YouTube, se non raggiungiamo i 6 miliardi di like, poi potrebbe togliervi la possibilità di mettere like gratis. Quindi mettete like gratis adesso e iscrivetevi al canale se siete dei curiosoni di gnagnabilità. Geri, acqua di Parma, si è sempre distinta per le sue colonie, per il suo essere fragranza mai offensiva, sempre stra-elegante e con un fascino de modè che non tramonta mai. Nella collezione privata abbiamo molte fragranze che percorrono lo stesso percorso, percorre lo stesso percorso. Non ci avevo mai pensato della sua linea abituale e in più ha alcune fragranze. Questa non è una classifica, diciamo, è un'analisi di tutto il brand. Però lo stesso, vi dirò quali sono le tre fragranze che io prediligo, è quella che ha più gnagnabilità fra queste. La prima fragranza della quale parliamo oggi è Sakura, una fragranza che, pensate, in siciliano vuol dire stai attento. No, quella era Sakura, vabbè. Questo sempre a sottolineare il fatto che Odoriamola con Mirko è il canale soprattutto del grandumorismo, non solo della grandissima informazione tecnica sul mondo delle fragranze. Sempre contro i poteri forti, chiaramente. In questo Sakura abbiamo un fiore di ciliegio, ok? Il fiore di ciliegio, che è molto delicato, è molto fresco, con un tono cipriato. Non un tono cipro, un tono cipriato, che è un qualcosa di diverso. Cioè che ricorda più gli elementi da trucco. Infatti si tratta di una fragranza, secondo me, che a livello di vibes è nettamente più femminile che maschile, però voi fate quello che volete. Quando dico fragranze maschili, questo non vuol dire che poi alla fine non potete indossare anche alcune fragranze per lo più femminili. Io ne ho acquistate tante. E se c'è una cosa di cui sono sicuro è la mia grandissima voglia di... Vabbè, poi ovviamente se mettete like ve lo dico a fine video. Poi abbiamo il gelsomino in questa fragranza. Una fragranza, quindi, anche qui, capite bene, stradelicata e strabella nella sua purezza. Stesso discorso per un'altra fragranza che si chiama Camelia. Che come già detto in alcuni video brevi su altri social, non vuol dire come nella canzone, ma vuol dire che si rifà a questa nota floreale dell'Estremo Oriente. Un fiore che si chiama Camel, ma che io chiamerò Camelia non solo per giustificare il fatto che c'è scritto Camelia sulla fragranza, ma pure perché Camel è Bobbovieri chiamato da Lele Adani, quindi non sarebbe rispettoso, visto che si parla di Acqua di Parma e Daniel Adani è di Reggio Emilia e si sa che Reggiana e Parma si stanno sul cazzo. Quindi Camelia è una fragranza con un pelo di rosa, una fragranza fresca, anche qui più femminile, secondo me, è un tipo di fragranza anche molto gioviale, molto pura, anche qui molto pura, perché ti dà delle vibes molto serene, rasserenante questa fragranza. E' quel tipo di donna che dici, guarda, questa qui secondo me come fidanzata ce la vedo bene perché non mi fa ingelosire, è sempre molto attenta, molto rispettosa, quindi diciamo una mosca bianca nel mare magnum di... vabbè, fatemi sapere nel mare magnum di cosa nei commenti. Andiamo avanti parlando di Osmantus, che è un amico, lui e lei, i bambini sono dolcissimi e come avrete notato, Osmantus, quindi non andate in profumeria e dite mi serve un Osmantus per le unghie, perché non c'entra niente. Dite mi serve un Osmantus di Acqua di Parma, mi raccomando ragazzi, perché questo è il canale tecnico, io non voglio che poi andate a dire mi serviva... mi hanno detto lo smanto e ti danno lo smalto, e poi dice, odoriamola con Mirko, non dai consigli giusti, eh, la mia abilità sto cazzo. E poi, vabbè, comunque andiamo avanti con la recensione. Una fragranza molto bella perché contiene al suo interno la nota della peonia. La peonia è appunto un fiore molto caro ad Acqua di Parma, tant'è che qui casualmente mi sono preparato Peonia Nobile, che è, diciamo, la fragranza di riferimento con questa nota, credo, a livello mondiale. Credo che sia una delle fragranze che io prediligo di più in assoluto su una donna, veramente, perché ha quelle vibes leggermente fruttatine, pur non contenendo frutta, quindi leggermente dolci, è un po' vintage, un po' no, insomma, sono i classici profumi che me lo fanno diventare di marmo. Contiene un muschio vegetale, che sono i semi di ambretta, ultimamente abbastanza usato in profumeria, soprattutto nella fragranza molto bella di un altro brand che si chiama Mathieu Premier, la fragranza si chiama Paris Jean-Masque, veramente, veramente molto interessante. Bene, è una fragranza, diciamo, fra tutte quelle delle quali parleremo oggi, un po' più intima, ok? Come classico stile acqua di Parma, se volete distinguervi, ecco, magari, forse questa è la fragranza giusta. Adesso parliamo della fragranza floreale che contiene la nota che mi fa più godere di più ultimamente su una donna, specialmente, anche se poi è stato uno degli ultimi acquisti che ho fatto, una fragranza dove la nota principale è proprio questa, ma ve ne parlerò successivamente, ovvero la Magnolia e la fragranza, l'ultimissima uscita di questo brand è Magnolia Infinita. Perché Infinita? Perché ti fa godere in modo infinito. Cioè, mi sembra ovvio. Cioè, la storia infinita, il famoso film dove c'era quel pupazzo improponibile che volava, altro non era che un viaggio verso un campo di Magnole, di un ragazzino, questo pupazzo improponibile, diciamo, a dimostrazione del fatto che Mirco, lo bianco, è l'alfiere della grande, grande storia olfattiva che pochi sanno perché i poteri forti ce la vogliono sotterrare. E dice, ah, Mirco, ma non ci sono evidenze di questo tuo dire. Bene, sappiate che non ci sono evidenze di tante altre cose che vedete sul web a tema profumi e quindi sciacquatevi la bocca, come fa Bonucci quando parlate del canale tecnico. Una Magnolia cremosissima, freschissima, molto molto cipriata anche qui, molto classica. Questo lo vedo bene su una sciura, quindi una signora, diciamo, di una certa età, ma anche su una ragazza che indossa vestiti color viola, lila, fucsia, diciamo. Bellissimo. Devo dire un profumo che secondo me anche in layering può andare bene, anzi, andatevi a vedere il video che ho fatto sul tema layering così sapete di cosa si tratta perché non dobbiamo dare mai per scontato che ci può essere pure qualcuno che non è tanto avvezzo alle fragranze. Noi diamo tutto per scontato, in realtà non lo è. perché per noi la passione è più grande, però magari c'è qualcuno che si sta addentrando adesso in questo mondo e quindi cosa vuoi fare? Lo fai iscrivervi al canale, gratuitamente. Non lo fai pagare come fanno i poteri forti che ti fanno pagare per ogni singolo like. E basta, perché ora vogliono mettere la legge di far pagare i like. Scusate, ma il like è gratuito. Che cosa lo fate pagare a fare? Scusate, ma... Bene, andiamo avanti parlando di la prima fragranza in boccetta nera che vi presento oggi, che si chiama Sandalo. Per gli amici, Sandalo. Bene, un profumo che, a differenza di quello che di solito ci trasmette il Sandalo, ovvero una puzza di piedi importante, devo dire che... No, mi riferivo alla dolcezza di questo legno storico della profumeria. È una fragranza balsamica, quindi ha dei tratti balsamici, molto bella. Io non vedo niente con questo sprayer, un po' così. Molto, molto indossabile. Secondo me questa è la fragranza con la quale, se andate in overspray, farete sempre come un figurone, perché il Sandalo ha proprio questa... ti ricopre di un'aura magica. Cioè, trasmetti vibes positive, no? E le vibes positive, si sa, sono meglio delle vibes negative, perché le vibes negative, appunto, ci vengono a fare pagare per i like, che invece al giorno d'oggi, su questo canale, finché comando io, sono gratuito. Quindi, ma dici, ma Mirko non hai detto niente del profumo? Un attimo, cioè, rilassatevi un attimo. Nel frattempo potete schiacciare quella roba lì, voglio dire, non è che siamo tanto... Che dovevo dire? Sandalo indiano, cardamomo e citrus. Voglio dire, ci ho messo un secondo a dire quattro parole. Cioè, piano. E questo perché? Perché poi ti porta quella frizzantezza. Il cardamomo spinge, quindi non è un sandalo semplicemente meditativo, è un sandalo anche un po' monellino. Non è il classico sandalo, tipo, per esempio, adesso mi viene da citare di nuovo Mathieu Première, e sandal austral... Oh, perché mi è venuto fuori in napoletano? Austral. Sandal austral... Di nuovo? Ma che mi è venuto? Eh beh, scusate, sono ancora i festeggiamenti per lo scudetto, che è un amico. Lui, lei, i bambini, sono dolcissimi, soprattutto il cane, che si chiama Lozano. Decisamente più maschile. Ne preferisco altre, che adesso vi farò vedere, però sicuramente è un serio candidato a essere uno dei profumi migliori di questa collezione, sicuramente. Tanto, mentre scendono le tenebre del tramonto della bassa Sassonia, andiamo avanti, parlando di un'altra fragranza, che si chiama Oud. Questo è, secondo me, un approccio ancora più semplice al mondo dell'Oud, quindi questa resina che viene dall'albero di Aquilaria, molto rara. Anzi, ho fatto diversi video a tema Oud, scritto O-U-D, che vi metto qui. Oppure no, cioè nel senso, non ve lo devo mettere per forza. Cioè io devo essere un motivatore, capito? Cioè, se voi diventate pigri, poi un giorno vi si atrofizzano le dita e vi rimane soltanto l'indice perché lo avete allenato a scrollare. E questo non è bello, cioè nel senso, fate dei giochi di prestigio, tipo, scrollate con il cazzo e vedrete che, in men che non si dica, si potrà allungare. Tanto alla fine ce l'avete comunque di fuori quando vedete quelle battone con il culo, diciamo, in bella vista. Bene, parliamo di Oud, di Acqua di Parma, come si evince da queste prime battute per coloro che sono per la prima volta su questo canale. Questo è un canale che ha vari tecnicismi, il tecnicismo volgare, ma anche il tecnicismo vero e proprio perché, voglio dire, non è che sono uno che manca di cultura, cioè questa è tutta cultura, tutta cultura olfattiva, vedete? Dici, ma avere i libri non vuol dire sapere le cose, fatevi i cazzi vostri. Io vi faccio un po' di dissing adesso e vi faccio vedere come effettivamente stiamo messi bene dal punto di vista anche dello studio. Detto questo, vedete come è un canale con le braghe di fuori perché non è che uno prende e fa ma perché mi sto allungando decisamente su queste cose? Niente, per perdere tempo perché mi hanno detto che l'algoritmo vuole questo, quindi. Bene, bergamotto e anche qui sandalo e soprattutto wood, però un wood, diciamo, non fecale come il classico wood, diciamo, medio orientale o ancora peggio, diciamo, o meglio, se sei Mr. Mozz, indiano. Quindi, un wood straindossabile che non mi sono rimasti più spazi liberi. Adesso con l'occasione vi faccio vedere qualcosa che era soltanto per gli abbonati premium, anzi, per gli adepti premium. Molto buono. Ah, scusate. C'era il microfono qua. Ora sono andati via tipo in 50, però. Una fragranza straindossabile, secondo me non conosce genere, è un wood che va bene sia per uomo che per donna, molto delicato, passiamo avanti. Wood and Spice. Wood and Spice non vuol dire che ci trovate un componente delle Spice Girls che furono, bensì ci trovate un'atmosfera cattiva, un'atmosfera pepata, quindi speziata. Parliamo di un wood del Laos. Cosa vuol dire del Laos dell'Estremo Oriente? Dovete sapere che l'hood dei paesi del sud-est asiatico, di solito sono Laos, Thailand, sono con vibes più incensate, quindi più fumose, più, ancora più meditative del Sondale, quindi sappiate che ci troverete dentro molto fumo. Ho rischio di essere bannato per questa frase, i poteri forti, con me ormai mi hanno preso di mira, diciamo. Allora, devo dire che per un naso poco esperto può fare l'effetto griglia, cioè nel senso la griglia lasciata in tonza dopo una ridente solare grigliata con gli amici a rotto libero e vino. Però alla fine è l'hood diciamo di acqua di Parma che può soddisfare il gusto di una persona che già è introdotta nel mondo dell'hood secondo me non per tutti quindi questa non acquistatela mai in blind buy non c'è nemmeno un caso dove questa fragranza può essere acquistata in blind quindi state molto attenti e adesso passiamo alla penultima delle fragranze quercia mamma mia ragazzi quercia ma che bontà ma che bontà ma che cos'è questa robina qua quercia perché c'è il muschio di quercia mamma mia una dolcezza dettata dalla fava tonca cioè è come se il bosco poi mentre vi entrate nel bosco vi trovate su un sentiero che vi conduce alla casa di Hansel e Gretel vi ricordate la fiabba dove c'erano quei bambini che poi entravano all'interno di questa casa fatta di caramelle e cioccolatini diciamo dolcini vari però come se fossero accompagnati mano per la mano da Platone cioè in che senso che è una fragranza anche qui meditativa balsamica con una vena dolce io la adoro ed è anche la fragranza più gna gna friendly diciamo di questa lista anche l'ether che non non vi della quale non vi parlerò ha un diciamo una grande gna gna abilità però è stato riformulato da quello che ho capito non sono certo di questa informazione e non avendola in mio possesso non posso neanche dirvi la mia opinione stretta e precisa so solo che a suo tempo quando lavoravo in un negozio dove c'era la prima versione di acqua di parma leather piaceva e non poco bene questo quercia io mi ci farei il bagno quindi questa straconsigliata credo che sia probabilmente la fragranza migliore da acquistare in blind buy insieme alla mia fragranza preferita di acqua di parma di questa collezione privata ovvero yuzu ragazzi yuzu cos'è lo yuzu è un agrume che cresce anche qui nell'estremo oriente per la precisione in giappone che è un amico lui lei i bambini sono dolcissimi soprattutto durante la seconda guerra mondiale che l'italia era alleata del giappone non a caso abbiamo importato la cultura italiana attraverso i videogiochi giapponesi cioè la cultura giapponese appreso dalla cultura italiana all'interno vabbè nei videogiochi ci sono marie luigi ecco volevo dire sta stronzata e l'ho detta amici di acqua di parma bene questo yuzu è molto particolare perché c'è la nota di liquirizia però in questo caso anche se la liquirizia non piace a tutti questa è una fragranza che consiglio in blind buy sicuramente a tutti gli amanti degli agrumati e per i grandi fan di acqua di parma se amate di solito le fragranze di acqua di parma la fragranza più sicura da acquistare in questa collezione è sicuramente yuzu ok bene adesso ci salutiamo mi raccomando con questa cosa dell'italianità all'estero che viene confusa con degli elementi gastronomici e ci vediamo al prossimo video grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti